Lo Stato avvia l'iter per il riconoscimento dell'articolo 37 dello Statuto della Regione. Crocetta propone Antonio Ingroia per la presidenza di riscossione Sicilia. Mafia ha smantellato il nuovo supermandamento. 37 arresti. Ci sono novità anche sui fondi FAS. Vediamo. Luca Bianchi oggi però può cantare vittoria. Il DDL per il riconoscimento dell'articolo 37, ha detto, è un segnale importante di interesse da parte dello Stato centrale nei confronti di una regione come la nostra, che ha avviato un cammino virtuoso. L'articolo 37, prosegue Bianchi, non è solo una questione che riguarda il gettito, ma ci consente di usare un nuovo strumento fiscale che potremo usare, ad esempio, attraverso politiche di attrazione degli investimenti delle imprese. Ma il DDL prevede anche la possibilità di utilizzare i fondi FAS come sottolinea lo stesso Bianchi. Ciò ci consente di essere un po' più tranquilli in vista della chiusura del bilancio. Adesso, dice l'assessore, dovremo indicare da dove si prendono le risorse e cosa andremo a finanziare. Noi li utilizzeremo soprattutto per il trasporto pubblico e per rispondere ad alcuni debiti pregressi. Il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, ha proposto il PM Antonio Ingroia, candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri alle ultime elezioni politiche, per il ruolo di presidente della società della regione Riscossione Sicilia. Il CSM aveva indicato la Valle d'Aosta come regione dove Ingroia, non dimessosi dalla magistratura, avrebbe dovuto assumere il suo nuovo incarico in quanto unica regione dove il PM non si era candidato oltre ad Ingroia. Crocetta ha indicato Lucia Di Salvo per la carica di vicepresidente del CDA di Riscossione Sicilia, mentre nel Consiglio di Amministrazione dovrebbe entrare anche Maria Mattarella, figlia di Piersanti, il presidente della regione siciliana, ucciso dalla mafia. E parliamo di cosa nostra. Un maxi blitz nel Palermitano. I carabinieri hanno arrestato 37 persone, tra loro un insospettabile come il sindaco di Montelepre, Giacomo Tinervia, con l'accusa di concussione ed estorsione. Le indagini hanno permesso di smantellare un nuovo supermandamento che avrebbe potuto coprire tutto il Palermitano fino alla zona del Trapanese. Con questa operazione risulta una volta per tutte confermata la reale aspirazione della mafia, mantenere la presa sul territorio con un comportamento tipico di un'azienda, di un holding. Cosa nostra prova ancora a organizzarsi o per meglio dire a riorganizzare i propri vertici e questa volta però era il momento delle periferie del Palermitano fino al confine con il Trapanese. Le periferie al centro di tutto, dunque al centro degli affari, delle estorsioni, sino ai furti di bestiame e alla politica. Giusto per non lasciare nulla al caso e tenere vive le tradizioni, insomma. Affaregola la mafia principalmente le strutture comunali, quegli uffici spesso opachi dove è una regola scendere a compromessi. Quegli stessi uffici dove si possono vincere bandi, appalti, gare e perché non riuscire a fare qualche favore degli amici, magari compiacenti. Ma la mafia questa volta si conferma un'azienda sopra ogni cosa, un'enorme ditta con le sue filiali che si sono spinte sino a chiedere lettere di credenziali nella centrale, in Sicilia ovviamente. È il caso di un ex mafioso locale che è migrato negli Stati Uniti e ha chiesto una lettera di referenze. Quest'operazione è stata definita dagli inquirenti come la più importante degli ultimi vent'anni per mole di lavoro e poi perché non si avvalsa dall'usilio di pentiti. La mafia però rimane dinamica, pericolosa, si vuole rigenerare fino a creare un mega mandamento. Il mandamento perfetto che fu il progetto di Domenico Racuglia che trovò un voglio d'alleato in un allevatore di Partinico. Estorsioni, furto di bestiame, armi e specialmente le ultime amministrative. I principali interessi della mafia erano legati a questi settori, tutti collegati da Abbate, la primula rossa di Giardinello che spingeva per far entrare al Consiglio Comunale persone gradite. De registrare sicuramente il ruolo sociale della mafia che ancora si sostituisce allo Stato, alla magistratura, se non addirittura alle forze dell'ordine, mettendo anche sentenze di morte. Morte per l'upara bianca, magari. E adesso ascoltiamo le interviste. Gli elementi di novità sono questo rimescolamento delle carte per ridisegnare i confini dei mandamenti mafiosi. Gli elementi di forte aderenza al passato sono questo ossequio alle tradizioni, questa ricerca di un contatto sempre più intenso con il territorio ed in generale questa quasi ossessiva e maniacale osservanza delle regole. Il sindaco di Montelepre si è ritenuto responsabile di un duplice reato per la stessa vicenda in sostanza perché intanto è stato ritenuto responsabile di concussione in quanto si sarebbe fatto promettere la somma di 7.000 euro in cambio della giudicazione di un appalto e inoltre si è reso protagonista anche nell'ambito dello stesso appalto di una condotta che ha integrato il reato di tentata estorsione di concorso in tentata estorsione in quanto ha messo in contatto la ditta stessa con esponenti locali di Cosa Nostra. A causa diciamo del dominio su uno specifico territorio che poi è sempre manifestazione di attività produttive e quindi di ricchezze che possono finire nelle tasche di un uomo d'onore piuttosto che nelle tasche di un altro uomo d'onore è accaduto che all'interno di queste tensioni ha perso la vita un uomo che è scomparso il 22 marzo del 2012 con il metodo della lupara bianca. Affidare ai giovani i beni confiscati al re dell'eolico del Trapanese la proposta è del deputato regionale del PD Mariella Maggio che ha presentato un'interrogazione all'Ars in merito alla recente maxiconfisca dei beni all'imprenditore Vito Nicastri ritenuto prestanome di Matteo Messina Denaro. Nell'interrogazione Maggio chiede al governo regionale di adottare le iniziative necessarie per la destinazione, l'assegnazione e la gestione dei beni confiscati ai fini del loro ottimale utilizzo sociale ai giovani lavoratori operanti nel settore del fotovoltaico e dell'eolico allo scopo di promuovere nuovo lavoro qualificato attraverso l'affidamento di queste attività. E adesso una breve pausa pubblicitaria tra poco. È arrivato il digitale terrestre! Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre TV sul digitale. Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista! Posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre! I lavori per la realizzazione del MUOS a Niscemi proseguono nonostante la revoca delle autorizzazioni firmata dall'assessorato ambiente della regione siciliana il 29 marzo. Lo denuncia il coordinamento dei comitati no MUOS che ha diffuso le immagini di un video che documentano operai al lavoro nel cantiere del sistema radar militare americano a Niscemi. Sabato 30 marzo, un fiume di 10.000 persone provenienti da tutta la Sicilia e dal resto d'Italia ha manifestato contro la realizzazione del MUOS, il sistema di comunicazioni satellitari che la Marina Militare degli Stati Uniti intende realizzare a Niscemi. Una mobilitazione molto ben riuscita che era stata preceduta solo poche ore prima dalla notizia che la revoca alle autorizzazioni per la costruzione del MUOS era stata firmata dall'assessore regionale al territorio ambiente Mariella Lobello, un risultato politico che il governatore Rosario Crocetta aveva immediatamente rivendicato, mentre i comitati popolari no MUOS insistevano sul fatto che qualunque esito positivo, anche formale, in direzione dello smantellamento del MUOS era invece frutto della cosiddetta revoca dal basso attuata dai cittadini e dagli attivisti con la mobilitazione e i blocchi stradali fatti per impedire l'accesso ai camion e agli operai. Adesso il coordinamento regionale denuncia con questo video girato dal regista Manolo Lupichini che in barba alla revoca i lavori al cantiere della base americana continuano. In tal senso ci chiediamo, dicono i comitati no MUOS, come ciò sia possibile e cosa intende fare il presidente Crocetta per far rispettare l'atto di revoca. Il coordinamento regionale dei comitati no MUOS ritenendo che quanto accaduto sia estremamente grave in quanto espressione di un atteggiamento arrogante in piena violazione della sovranità popolare e istituzionale si attiverà nelle sedi opportune al fine di accertare le responsabilità. E cambiamo argomento. Il riordino delle partecipate è uno dei temi su cui la regione siciliana è in ritardo nonostante le ripetute sollecitazioni del sindacato che si debba procedere in tal senso e dunque fuori di dubbio. bisogna però che il governo regionale eviti soluzioni estemporanee unilaterali confrontandosi con le parti sociali per giungere a un progetto condiviso. Lo dice Ferruccio Donato, reggente della CGL Sicilia. È un processo complesso, quello del riordino delle partecipate, aggiunge Donato, che deve essere incardinato in modo da raggiungere l'obiettivo dell'efficienza coniugato a quello della lotta agli sprechi. Nel contempo, sottolinea ancora Donato, vanno date certezze ai 6.000 lavoratori interessati la CGL, ribadisce il proprio no a qualunque forma di macelleria sociale e invita il governo regionale ad agire in modo chiaro e ponderato, discutendo con i sindacati per non gettare nel panico migliaia di lavoratori. No a percorsi solitari sulle partecipate. Prima della legge il governo regionale si confronti, discuta a un tavolo comune con sindacati, enti locali e assemblea regionale siciliana. Lo dice il segretario regionale della CISL, Maurizio Bernava. Siamo preoccupati, spiega Bernava, che avventure solitarie del governo regionale possano produrre solo danni, quindi prima di presentare leggi che a parole dicono di tutelare l'occupazione, occorre un confronto preventivo che porti a una strategia comune da costruire tra governo regionale, commissione biancio dell'ARS, enti locali e sindacati. A Palermo raccolta rifiuti a rischio per agitazione dei dipendenti dell'AMIA e di AMIA-SM. Raccolta dei rifiuti a rischio a Palermo per lo stato di agitazione dei dipendenti di AMIA-SPA e AMIA-SM proclamato dai sindacati dopo la pronuncia del Tribunale fallimentare che ha rigettato la richiesta di concordato preventivo per la società partecipata che gestisce il servizio in città in amministrazione straordinaria da due anni. Da questa mattina le organizzazioni dei lavoratori hanno indetto due ore di assemblea per ciascun turno di lavoro, sono tre in tutto quelli programmati, per decidere come proseguire la protesta. Sono circa 2.400 i dipendenti di AMIA-AMIA-SM e chiedono garanzie sul proprio futuro perché temono che dopo la decisione dei giudici fallimentari possano esserci ripercussioni sul fronte occupazionale. Intanto Palermo, alcuni comuni e la provincia hanno vissuto una nuova nottata di roghi di cassonetti. I residenti esasperati per la mancata raccolta hanno incendiato i contenitori in via Roccoiem, in via Sagittario, in via Mongitore, in via Padre Colbe, in via Brunelleschi, in via Lampionelli, via San Vincenzo de Paoli, in via Orsa Maggiore e via Trani. I vigili del fuoco sono stati impegnati anche a Isola delle Femmine, Bagheria e Misilmeri. Bisogna a tutti i costi evitare il fallimento dell'AMIA perché sarebbe un danno enorme per la città, per i servizi ai cittadini e per lo stesso Comune di Palermo. Lo sostiene il segretario della CGL di Palermo, Maurizio Calà, che ritiene necessario aprire un confronto sulla proposta di un concordato credibile e sulla contemporanea possibilità di ragionare sulla riorganizzazione dell'AMIA e del contratto di servizio del Comune per mettere in equilibrio l'azienda. Anche la CGL è tra le sigle che hanno indetto lo stato di agitazione del personale. Per quel che ci riguarda è necessario che il Comune, a partire dal Sindaco, si attivi con dei tavoli e anche con la partecipazione delle organizzazioni sindacali per presentare un progetto che sia questa volta credibile sul piano economico e finanziario. Con due delibere, la Giunta Comunale di Palermo ha dato un ulteriore impulso al percorso iniziato a marzo con l'installazione della videosorveglianza di riqualificazione e messa in sicurezza del mercato ittico della città. Il primo provvedimento è un atto di indirizzo con il quale la Giunta affida al settore servizi alle imprese il compito di mettere in atto tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza della struttura dal punto di vista di inizio igienico-sanitario e della sorveglianza. Il secondo provvedimento mette in campo con uno stanziamento di 639 mila euro il primo degli interventi strutturali previsti e cioè l'avvio del progetto di ristrutturazione edilizia ed adeguamento delle norme igienico-sanitarie. E adesso una seconda pausa pubblicitaria tra poco. È arrivato il digitale terrestre. Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre TV sul digitale Tele One sul canale 19 Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Potrai anche vederci nelle province di Catania Caltanissetta Enna e Ragusa. Più copertura più qualità più servizi. Seguici sul digitale terrestre. Inaugurata a Villa Niscemi la mostra di pittura di Tiziana Marino a Palermo. Ascoltiamola. Il risveglio che voglio raccontare è qualcosa di molto intimo metafisico un po' un modo di guardare le cose da un altro punto di vista le stesse identiche cose le cose che ci circondano nella realtà in maniera diversa che può essere propositiva e quasi iniziatica di un percorso nuovo come è stato più o meno per me nella pittura. è uno dei colori che effettivamente uso con molta frequenza e il blu chiaramente molto dimensionato rispetto a questo risveglio che è auspicabile un po' per tutti. La mostra nasce dalla necessità come sempre per qualunque artista dal bisogno di accedere a un livello di consapevolezza superiore rispetto magari a come si è vissuto fino a un certo punto quindi il desiderio di qualcosa che possa comunicare e che comunque riguarda tutti che io esprimo in pittura ma che riguarda assolutamente tutti il bisogno di una consapevolezza comunque superiore di sé della propria realtà. In realtà è un messaggio un po' per tutti rispetto magari a quelle che sono dinamiche quotidiane che ci possono un po' ingrigire le giornate quindi il desiderio di una nota diversa che non sia semplicemente un banale consumismo o un desiderio effimero quindi un consiglio anche in questo senso volta ad accedere alla dimensione emotiva più gratificante per tutti rispetto alle banalità la mostra resterà aperta fino all'11 aprile dal 6 aprile fino all'11 la mattina dalle 9 e mezza alle 12 e mezza e il pomeriggio alle 16 e 30 alle 19 e 30 grande successo ieri a Villa Abate per la settima edizione della mostra a canina vediamo siamo felicissimi che il presidente Nodal Bartolo presente dell'associazione CPA ha avuto come dire anche quest'anno la forza di riproporre questa manifestazione che ha dato conferma quest'anno ancora di più di una partecipazione è lavatissima 150 nuclei familiari sono scesi in piazza e non proprio in piazza a Villa Abate ma in questa area via natta di Villa Abate per partecipare a questa manifestazione canina che ha avuto come dire una partecipazione brillante molto seguita io come dire da consigliere comunale di Villa Abate voglio ringraziare il presidente Nodal Bartolo per questa manifestazione le forze dell'ordine tutte che hanno dato la propria disponibilità questa mattina e grazie anche a voi come dire di aver pubblicizzato questa manifestazione è bello trovarsi insieme a tanti amici cinofili a tanti cani e passare una bella giornata assieme io direi che più che cattivi cani possono esserci cattivi padroni questa è la cosa principale poi i cani basta che socializzano e sono abituati a stare in mezzo ai cani e in mezzo alle persone di solito non danno problemi a parte che non abbiano dei problemi comportamentali ma quello è sempre un discorso di come sono cresciuti quindi ritorniamo al discorso del cattivo padrone lo sciarpeio è una razza comunque non comune perché diciamo che se ne vedono raramente di questi cani e io ho avuto insomma la fortuna di acquistarlo perché insomma mi piaceva e ora insomma intraprendiamo questo corso dell'esposizione insomma così insomma è la prima esposizione o ne hai fatte altre? no no questa è la terza sì sì la terza esposizione la prima e la seconda è andata abbastanza bene adesso insomma vediamo questa come andrà lo splendido ciao ciao sì esatto due lei è Venere otto mesi e lui Simba due anni e mezzo che cani sono? cani molto attenti tranquilli sanno difendere quando devono abbagliano solo quando devono abbagliare è un amore club di tifosi di squadre diverse uniti in un'iniziativa benefica questo è l'obiettivo della prima edizione del torneo oltre la maglia presentato ieri a Villa Abate nei locali della biblioteca comunale la definizione oltre la maglia sta a simboleggiare quello che è lo spirito di questo torneo che è quello di unire tanti tifosi appassionati delle varie squadre dei club professionistici appunto in nome dello sport appunto oltre la maglia perché lo sport unisce unisce le tifoserie e diventa strumento per conoscere e farsi tanti amici io oltre a essere un professore di locazione fisica sono anche un allenatore di settore giovanile nell'ambito loramitano da 15 anni secondo noi è un messaggio importante appunto questo di utilizzare lo sport come veicolo per creare nuove amicizie e soprattutto creare una cultura del rispetto purtroppo in Italia abbiamo degli esempi negativi perché i gruppi ultras non danno assolutamente dei esempi positivi anzi il tifo viene estremizzato invece noi vogliamo appunto unire con questo torneo quelle che sono le passioni della gente e utilizzare lo sport come mezzo aggregativo sono contento oggi a Villa Abate di trovare responsabili di tifoserie che tutti insieme si mettono per arrivare a un raccogliere un risultato che oggi è fondamentale quello di non aizzare i popoli durante le partite quella di dire che lo sport è fondamentale per la società per la comunità per le comunità di qualsiasi territorio una partita può anche essere persa però oggi si perde domani si vince quindi andare oltre le maglie è una bella iniziativa che oggi qua a Villa Abate gli amici Villa Abatesi hanno voluto fortemente che si svolgesse qua a Villa Abate è una delle più belle iniziative che a mio avviso nell'ambito sportivo possa mai accadere io sono contento di questa iniziativa perché è un'iniziativa che ha carattere sportivo carattere benefico ma principalmente perché è un'iniziativa che oggi mi ha fatto capire quanto sia importante quanto sia importante il valore sociale e morale di qualsiasi iniziativa è un'iniziativa che vuole esplonare i tifosi delle squadre di calcio a volersi bene anche nonostante i tifosi di una squadra diversa è un messaggio fondamentale è un messaggio di arricchimento ed è un messaggio che tutti noi dobbiamo recepire perché lo sport è una manifestazione di unione e non di divisione venerdì 12 sabato 13 e domenica 14 aprile al Super Cinema di Bagheria la nuova compagnia Pedro Nello presenta la commedia in tre atti di Egidio Pucci Ora Chissio e Progresso la regia e l'organizzazione del spettacolo sono a cura di Michele D'Amato e Maria Piafricano l'appuntamento al Super Cinema è per venerdì e sabato alle 21 e per domenica alle 18.30 a partire da domani alle ore 18 nelle salle di Palazzo Zino inviadante a Palermo sarà ospitato un evento espositivo di fotografia contemporanea dal titolo Geografie e storie di transizioni la mostra organizzata dall'associazione culturale Galleria X3 con il patrocinio dell'assessorato alla cultura del comune di Palermo accoglierà circa 95 opere di 35 fotografi prevalentemente siciliani che con i loro scatti ognuno con il proprio stile e la personale sensibilità hanno voluto dare testimonianza dei mutamenti di carattere antropologico sociale e politico che hanno caratterizzato gli ultimi due decenni migrazione nomadismo sociale conflitti in corso integrazione localismi e globalizzazione sono alcune delle tematiche su cui la mostra invita a riflettere bene questa era l'ultima notizia e io vi rimando alle prossime edizioni del nostro notiziario arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.